La cosa più spettacolare di sta macchina qui, vabbè, gli abbiamo fatto qualcosina di carrozzeria, non troppo naturalmente, perché comunque in buona parte, non tutta, in buona parte è ancora la sua vernice, la cosa più spettacolare veramente è l'interno. L'abbiamo mostrato nel primo video, ma lo rivediamo adesso, se tu vai di là Gab, a parte i pannelli con ancora il celofan che io non ho intenzione di togliere, poi lo toglierà il nuovo proprietario se vorrà, li tirerà via. Ma questi coprisedili qua, e ciao questi coprisedili, compro una vocale, avevano i coprisedili e i coprisedili dei coprisedili, li abbiamo tolti noi. Sono nuovi. Sono nuovi, chiaramente sono stati tutti puliti, igienizzati, perché chiaramente quei coprisedili avevano 40 anni, però abbiamo messo un autoradio, perché qua aveva l'impianto radio, naturalmente la macchina, ma non aveva più l'autoradio, allora abbiamo scelto un autoradio vintage e funziona tutto. Questo è il mitico Enzino, abbiamo fatto funzionare le sue belle luci, il suo quadro strumenti, la macchina ha 47.300 km, unico proprietario, come li garantisce il Gab. Quindi se avete qualcosa, chiamate il Gab, a parte gli scherzi, naturalmente. E pensate, il parabrezza non è originale, l'avevo menzionato nel primo video, c'è il primo video con la manutenzione dell'auto, mi sembra, sì. Il parabrezza non è originale, ma non perché è successo qualcosa, perché la macchina è stata nel box 21-22 anni, una cosa del genere. È caduto qualcosa dalla mensola sopra e ha fatto un bozzo così nel parabrezza e l'ha rotto. E lui ha piantato lì tutto, il figlio, quindi ha lasciato lì le cose che sono cadute. Quando siamo arrivati noi, c'era ancora tutto sul cofono, come è caduto? Era utilizzata come deposito dei cartoni. Esatto, quindi come è caduto sul vetro, che ha rotto il vetro, l'ha lasciata lì. Però internamente la macchina, che le plastiche della Delta non erano certo edilliache, sono ancora tutte in splendido stato, sia davanti che di dietro. Ecco, questa è la macchina che ha dato i natali alla Delta integrale.